Cos'è Itacca e perché sei deciso di organizzarlo anche a Pavia? Itacca è il nome di una bellissima esperienza nazionale di riflessione sul turismo sostenibile. Siamo molto felici che questa riflessione arrivi anche a Pavia. Siamo molto felici di come ci arriva e delle cose che ci darà l'opportunità di discutere. Allora ci arriva credo e questo davvero è un valore al di là dell'interesse specifico delle cose di cui parleremo in questi giorni a seguito davvero di una costruzione di una rete molto importante di associazioni, realtà, operatori che in qualche modo si interessano di Pavia come città turistica. Queste realtà hanno costruito insieme questo programma, sono moltissime, non posso citarle tutte e davvero che sia un momento di riflessione partecipato ma realmente partecipato perché proprio il programma è stato costruito in mesi di lavoro tra tutte queste realtà è già un valore in sé. Abbiamo sempre parlato di partecipazione come valore aggiunto e credo che la materia della preparazione politica e turistica non faccia eccezione. Dopodiché credo che l'argomento sia decisivo per questa città perché Pavia è una città che penso debba avere la cultura e quindi il turismo come suoi cavalli di battaglia dal punto di vista di come la si presenta all'esterno. Però spesso si parla di queste materie dimenticandosi che il turismo è una materia di governo locale, ha bisogno di un livello di investimenti, ha bisogno di una capacità ricettiva e di proposta, ha bisogno di una sostenibilità dei suoi servizi. Quindi è proprio una materia come tutti gli argomenti della pubblica amministrazione in cui pubblico, privato e terzo settore devono riuscire a organizzare un lavoro comune. Ci fa piacere parlare di queste cose in una città che sta registrando in questi anni i dati migliori, credo quelli del 17 sono i migliori del triennio, sia sugli arrivi turistici che sui pernottamenti. Però oltre alla crescita numerica, la crescita numerica è una cosa che fa piacere ma che poi pone la sfida di come la si sostiene. Credo proprio che queste giornate lasceranno in eredità alla città una serie di spunti che poi spero possano essere sviluppati nell'attività amministrativa del futuro. Quindi davvero l'invito è a seguire questi momenti nei quali non mancheranno anche momenti culturalmente stimolanti. Penso alla maratona cinematografica, c'è un concerto, c'è il pranzo interculturale, c'è davvero tanto. Quindi non perdetevi questa iniziativa. Fra i tanti eventi che ITACA presenterà, in particolare ci sarà anche un'interessante mostra fotografica. La mostra fotografica inizierà giovedì pomeriggio fino a sabato, pomeriggio nella Sala Saperi. Ed è intitolata Trame di strada, è una mostra, sono diversi pannelli su Corso Garibaldi e su Il Borgo. Quindi sono due quartieri popolari di Pavia, una mostra che è stata fatta qualche anno fa in occasione di un progetto Trame di strada patrocinato e voluto dalle ACLI insieme a diverse associazioni come Contatto, la Cooperativa Liberamente e la Pira Canta. Sono immagini nuove di come sono adesso questi territori e i vecchi immagini, cartoline vecchie di questi quartieri. Poi un altro evento nella chiesa di San Luca, sarà sabato alle 3, con la professoressa Luisa Erba che ci parlerà delle immagini sacre come devozione popolare sui muri di Pavia, dei vecchi muri di Pavia.